Bentornati sul mio canale YouTube, oggi andiamo a analizzare quella che è la nuova patch che è già uscita su PC e prossimamente sarà disponibile su console quindi prima patch del 2021, che fai? Te ne privi? Come al solito ci vanno a cambiare qualcosina, ancora una volta vanno a toccare delle cose che già in realtà in passato avrebbero dovuto risolvere quindi diciamo che non parto proprio molto molto ottimista per questo nuovo aggiornamento ma andiamo a vedere in realtà di che cosa si tratta come potete vedere patch 1.11, titolo update 8, quindi siamo arrivati ormai alla patch numero 8 eccoci qua, allora, gameplay, che ovviamente è la cosa che interessa a noi maggiormente apportate le seguenti modifiche sono state apportate diverse modifiche alla tattica del pressing attivabile tramite D-pad quindi la solita tattica del pressing tramite freccia giù, freccia sinistra un qualcosa che avrebbero già dovuto risolvere nei due aggiornamenti precedenti ma che in realtà è rimasta esattamente identica per cui, beh, vediamo allora, ha diminuita da 20 a 15 secondi la durata della tattica pressing assegnata ai tasti direzionali prima di attendere che si ricarichi perché sapete che se voi la tenete attivata ha una sorta di timer che prima durava 20 secondi che, qualora voi non andavate a disattivare ripremendo freccia giù, freccia sinistra continuava ad andare e prima di poterlo riutilizzare si sarebbe dovuto ricaricare adesso questo timer scende da 20 a 15 secondi quindi diciamo che è una finestra temporale più bassa nella quale può essere utilizzato questo pressing una volta richiesto il pressing poi il suo effetto sarà tipo dopo due secondi quindi voi non potete neanche più andare almeno è a leggere perché poi, vi ripeto, bisogna sempre vedere se si traducono in game queste modifiche non potete andare ad attivare effettivamente a vedere un riscontro della tattica del pressing ma bisogna attivarlo in maniera preventiva qualora magari si vuole esercitare pressione sul rilancio di un portiere in fase di disimpegno dell'avversario, eccetera, eccetera nelle situazioni in cui la squadra in difesa utilizza il pressing e recupera il pallone il pressing non rimarrà automaticamente attivo e questa è una bella mossa perché un sacco di volte capitava che recuperate la palla il pressing continuava a rimanere attivo se voi non lo toglievate e quindi vi si, insomma, scaricava la barra invece adesso, una volta che voi difendete utilizzate il pressing e recuperate il pallone non c'è più bisogno che lo disattivate ma si disattiva in automatico lode a Dio, questa mi sembra una cosa molto intelligente sono state poi apportate diverse modifiche alle mosse abilità doppio passo e doppio passo inverso anche qua parliamo di un qualcosa che in realtà dovrebbe essere già stato toccato nella patch precedente che parlava proprio di pressing e doppio passo quindi farne un'altra in qualche modo, diciamo, che sbugiarda un po' quello che ha fatto l'ultima volta in realtà non ha fatto perché il pressing è rimasto OP e il doppio passo è rimasto OP quindi per farvi capire due patch sullo stesso argomento, insomma comunque, entrambe le mosse abilità non sono considerate mosse abilità facili e saranno meno efficaci se concatenate insieme durante il movimento cosa vuol dire che al pari di un elastico adesso i doppi passi, se fatti in maniera concatenata in maniera ripetuta produrranno quello che è un distacco del pallone dai piedi del portatore di palla quindi la palla tenderà a scarpar via dalla disponibilità dei nostri giocatori anche qui ci può stare perché, insomma, non se ne poteva più di vedere gente che iniziava a fare doppi passi con Varan stava diventando veramente un doppio passo simulator un qualcosa che, secondo me, si distacca molto da un videogioco non da una simulazione perché ricordiamoci che i videogiochi sono sempre degli arcade però, insomma, doppi passi con Varan siamo forse un po' al limite dell'arcade le animazioni per entrambe le mosse abilità sono state rallentate tocca capirla un attimo bene sta cosa perché se è un rallentamento alla elastico questo rischia di diventare un bel colpo per il doppio passo ecco se invece dovesse essere un rallentamento molto più lieve un po' come era stato nel primo rallentamento del doppio passo insomma, poco è cambiato quindi aspettiamoci di vedere abusi, abusi, abusi di doppio passo diminuita la velocità di transizione il giocatore in uscita da entrambe le mosse abilità quando la direzione è frontale quindi praticamente quando il giocatore è a 180 gradi la direzione di uscita sarà quella rallentata anche qua bisogna capire se è rallentata sì, quanto, 10, 20, 30 volte quindi bisognerà un attimino testare magari mi aspetto feedback nei commenti da parte degli utenti PC che hanno già avuto modo di mettere mano su questo aggiornamento per capire effettivamente di che cosa stiamo parlando risolti i seguenti problemi il portiere a volte rimaneva bloccato dietro alla porta e non era in grado di mettere in gioco la palla con il risultato che le partite non finivano quel bug che abbiamo avuto modo di vedere dove appunto il pallone era sulla linea di porta il portiere da dietro cercava di bucare la rete senza mai riuscirci e le partite duravano fino al 500esimo come è successo anche a me quindi dovrebbero aver risolto questo problema un difensore che si posizionava davanti al portatore palla in seguito a un contrasto duro talvolta non si impossessava del pallone contrasto duro che vi ricordo è quello che si fa con R1 più tasto del contrasto quindi è il contrasto duro come se voi in realtà stesse premendo il tasto più a lungo quindi producono lo stesso effetto logica di assegnazione dei calci di rigore da parte dell'arbitro migliorata nelle situazioni in cui il portiere si tuffava ai piedi del portatore palla quindi ancora una volta si va a cercare di far sì che gli arbitri insomma non siano stati tutti quanti pagati alla cupola ma riescono ad assegnare rigori con criterio quindi migliorata questa situazione di rigori nel momento in cui è il portiere a uscire a causare un contatto con l'attaccante logica arbitrale migliorata quando si prendono decisioni in situazioni di contrasto fuori dall'aria e vabbè e ci voglio stare anche se abbiamo visto come fino ad ora non è che queste migliorie arbitrali abbiano prodotto questi grandi risultati quando un portiere si muoveva e poi ero stava fermo durante un calcio di rigore a volte poteva deviare la palla nella propria rete se il pallone lo colpiva direttamente eccomi mi è capitato quindi grazie signori grazie potevate farlo prima ciò non influisce su altri tipi di potenziali deviazioni nelle situazioni in cui il portatore di palla avviava un'animazione di tiro ma il tiro veniva annullato in tempo il difensore a volte poteva eseguire un'animazione di blocco involontare eccomi signori della EA mi è costata la qualifica grazie non so se avete visto uscirà poi il recap in settimana proprio contro Rase ecco vabbè un top mondiale ho preso un gol perché lui mi ha annullato la finta di tiro il mio Varane si è buttato a terra come se fosse una delle cinque volte in cui si deve pregare la Mecca e insomma lui mi ha segnato quindi anche qua si producevano questi blocchi involontari ai difensori che erano molto fastidiosi e rendevano questa finta annullata molto molto p quindi bene vediamo se effettivamente sarà così poi vabbè FIFA Ultimate Team ha portato le seguenti modifiche nelle partite online i giocatori non vedranno più il modello di pallone selezionato dal proprio avversario ma vedranno sempre il proprio io ho un 30 secondi di applausi qua lo farei finalmente quante volte vi sarà capitato di vedere quelli con i palloni che hanno il pallone divano il pallone ciambella maledetti palloni biglia così piccoli finalmente i nostri palloni le partite di squad battles cooperative ora possono essere messe in pausa durante il gioco di entrambi i giocatori e non avranno più un limite di pausa quindi questo per chi è un player di squad battles dopo aver riscattato i crediti foot dagli obiettivi evento di squadra il totale complessivo dei crediti foot non aumentava fino a quando non si usciva e si rientrava da foot va bene quando un gruppo di obiettivi precedente è bloccato e veniva sbloccato continuavano ad essere visualizzato finché il giocatore non riusciva e rientrava da foot il widget co-op talvolta non funziona correttamente dopo aver utilizzato il filtro dei prezzi durante una ricerca nel mercato trasferimenti dopo aver attivato l'opzione di ricerca dei consumabili consigliati nel menu radiale non tutte le scalie dei pulsanti navigazioni del menu funzionavano come previsto e vabbè se un hobby della lobby cooperativa lasciava la lobby mentre l'host stava aprendo un pacchetto lo sfondo del menu dell'host veniva visualizzato in modo errato durante l'alteprima di suoni, quali cori, canti eccetera nel mio stadio l'audio si resettava l'interfaccia utente relativa ai progressi si animava ogni volta che veniva visitata la schermata evento aggiornata la descrizione della modalità competitiva il nome del club veniva visualizzato in modo errato durante la visualizzazione e la valutazione dei giocatori nel menu di pausa i trofei, sfondo aggiornato eccetera 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 insomma queste sono cose minori però la cosa dei palloni devo dire mi lascia molto molto contento modalità carriera insomma non ci importa più di tanto volta football e pro club idem generale audio eccetera eccetera ve li faccio vedere rapidamente ma insomma sono cose sicuramente minori e nulla raga per questa ennesima patch quindi dovrebbe essere sostanzialmente tutto vediamo vediamo se effettivamente si producono dei buoni effetti vediamo se effettivamente sto doppio passo sto pressing vengono nerfati io vi saluto qua vi ricordo di lasciare un bel like un commento fatemi sapere soprattutto utenti di pc se avete provato l'aggiornamento vi ricordo in descrizione tutte le info sulle live giornaliere sulla piattaforma viola e nulla ragazzi vi auguro una buona giornata ciao ciao